Soprattutto da Coristi, ma negli ultimi edizioni, come si è visto, esceranno anche un po' di italiani, insomma, di gente del Val d'Arna che è venuta su a sentire il concerto. Quindi ritorna davanti alla Cappella Polverini nella finuta della fattoria alla Traiana, che appunto ci tenevo a ringraziare Gian Domenico Gigante per l'ospitalità, che anche quest'anno dà la manifestazione, un concerto. Il tema di quest'anno è il Mediterraneo, quindi ci stanno Stefano Saletti e Barbara e Ramo che faranno fare un viaggio, diciamo, su tutte le rive del Mediterraneo, attraverso i suoli e la musica, insomma, del bacino mediterraneo, insomma. Ci tenevo a ringraziare anche Cassia Vetus e come tutti gli anni, ormai chi ci frequenta lo sa, ogni anno c'è una colazione presentata da qualche restauratore del Val d'Arna e quest'anno appunto avremo Cassia Vetus che preparerà la colazione, insomma. Quindi per chi è interessato, per i mattinieri, sabato 14 luglio, nomata la Cappella Polverina della Fattoria Traiana, alla Traiana, concerto all'Alba Mediterranea.